La grande arte al cinema, la rassegna organizzata dal Cineteatro Garibaldi di Giarre, torna la prossima settimana con il terzo appuntamento in programma. Protagonista stavolta il grande genio di Van Gogh, visto dagli occhi della sua più grande collezionista, Hélène Krollermuller, che all'inizio del Novecento arrivò ad acquistare circa 300 dei suoi lavori, fra dipinti e disegni. Il film vede anche al centro la mostra Van Gogh tra il grano e il cielo, in corso alla Basilica Palladiana di Vicenza, sino all'8 aprile 2018, che raccoglie 40 dipinti e 85 disegni provenienti dal Krollermuller Museum di Otterlo in Olanda. Lunedì e martedì avremo il terzo appuntamento della rassegna La grande arte al cinema, e questo appuntamento sarà dedicato appunto a Van Gogh. Van Gogh tra il grano e il cielo è una nuova produzione cinematografica e appunto che si occupa di questo grande artista che oltretutto negli ultimi anni, per vari aspetti anche storiografici, è stato un po' riscoperto sotto altre sfaccettature della sua personalità e del suo essere artista appunto. E il terzo appuntamento della grande arte al cinema, la nostra rassegna cinematografica dedicata al mondo dell'arte. Che riscontro ha avuto la rassegna finora? Ma con nostro stupore da un lato ha avuto un notevole riscontro di pubblico e questo ci fa molto piacere, perché significa che comunque c'è interesse e sete di questo genere di proposte, che il cinema può raccontare anche l'arte e che il pubblico apprezza questo genere di racconti appunto cinematografici dedicati al mondo dell'arte. C'è un target che diciamo è più avvezzo a questo genere di film? Ma se ci riferiamo a un target anagrafico dai 35 ai 60 anni più o meno, quindi questa è la forbice un po' del pubblico che è venuto a vedere questo genere di proiezioni cinematografiche. Dopo Van Gogh, il prossimo appuntamento? Dopo Van Gogh avremo Cézanne, quindi la rassegna continua, avremo un film appunto dedicato a Cézanne e probabilmente proporremo un film su Egon Schiele che è stato già proiettato qualche mese fa e lo riproporremo perché... è stato proiettato in altre sale cinematografiche, lo riproporremo perché ci è stata fatta richiesta è un film che ha riscosso un notevole successo di pubblico quindi probabilmente continueremo ancora.